Musica Te spettatori ben ritrovati con l'informazione di Telediodine. Si può anche morire di fame e di tumore, ma non toccate ai crotonesi le tradizioni. La tradizionale fiera Mariana si terrà, allarme rientrato. La fiera Mariana si terrà, c'è un comunicato ufficiale, ma perché c'era il dubbio Vallone? Perché ha fatto questo comunicato? No, io non ho fatto nessuno, ho fatto solo una lettera interna dal mio ufficio. Lei ha fatto un comunicato dove dice la festa Mariana si terrà. Perché avevo fatto in precedenza una lettera interna dai miei uffici ai dirigenti, proprio preavvertendoli che se non si trova una soluzione rispetto all'organizzazione del servizio e alla copertura della spesa avrei inibito la prosecuzione. Mancavano i soldi, se non ci sono i soldi non li potete... Se non c'erano le risorse per garantire i servizi che vanno assicurati all'interno del servizio e dell'organizzazione si correva il rischio. Naturalmente ci siamo attivati immediatamente dopo perché stavo verificando che da diversi giorni non si trovava una soluzione e quindi è partita una lettera interna riferita a questa attività. Rispetto alla lettera interna ieri abbiamo fatto una riunione molto più articolata con tutti i dirigenti interessati e abbiamo trovato una soluzione naturalmente che parte da una ordinanza che mi stanno predisponendo e in mattinata sarà adottata e per quanto riguarda una copertura parzialmente l'abbiamo trovata per l'altra la sottoporrò naturalmente all'ordinanza e il dirigente la sottoporrà al Consiglio Comunale. Fermo restando che naturalmente le attività partiranno immediatamente. Al Consiglio Comunale questo o il prossimo che ci sarà insieme, perché la competenza è dei consigli comunali quando si opera. Però voi la garantite? La garantiamo proprio con l'ordinanza. L'organizzazione era già in atto, si terrà nel solito sito, ormai si è verificato. Sì, il campo sportivo e il Margherita, sotto la Margherita, perché... Porto, diciamo Porto, area portuale. Porto, area portuale, perché hanno garantito nel passato che tutto sommato sia pure con difficoltà per il traffico e tutto l'è, ma si svolge ormai con un abbastanza sufficiente ordine. E naturalmente sono interessate tutte le associazioni di volontariato che hanno sempre garantito i servizi. ci sarà, credo, tra domani e lunedì, il solito Comitato per la Sicurezza in ordine a questi eventi che determinerà tutte le prescrizioni che dovranno essere osservate. La festa è salva, insomma? La festa è assolutamente salva, non ci sono problemi di questo genere. Le famiglie possono andare a fare acquista alla Fiera Mariana? Assolutamente sì, alla Fiera ci andremo tutti nel solco di una storica e tradizionale festività che abbiamo... Almeno per quest'anno. Viviamo tutti felicitamente. Almeno per quest'anno. No, io credo che per quest'anno e per gli anni a venire. Elezioni comunali entro le 12 di domani 7 maggio, scadono i termini per la presentazione delle liste. Il punto di Gaetano Megna. Entro domani a mezzogiorno presso l'ufficio elettorale del Tribunale di Crotone dovranno essere depositati le candidature a sindaco e le liste di appoggio di tutti i candidati al Consiglio Comunale. Vi ricordiamo che a Crotone si vota il 5 di giugno prossimo per il rinnovo del Consiglio. Così la stessa cosa dovrà finire per gli altri quattro comuni interessati al voto. Ma vediamola Crotone quanti sono i candidati a sindaco certi e quanti sono i candidati al Consiglio Comunale. Le sette liste appoggiano la candidata del centrosinistra PD, Rosanna Barbieri. In un primo momento si era parlato di 11, 12, 13 liste, alla fine le liste sono sette. La prossima Crotone, che presenta Ugo Pugliese, che è andato a sindaco, presenta 5 liste. Ottavio Tesoriere, che è una liste civiche con movimenti di centrodestra, presenta 4 liste. Antonio Argentieri Piuma, con i moderati, presenta 4 liste. Una sola lista per 5 stelle che candida Ilario Sorgiovanni, perché il 5 stelle non può candidare per statuto più di una lista. Fabrizio Meo candida una lista, lui ci ha riferito, che sono due liste che si uniscono. Pietro Infusino, Noeni, una lista, poi ci dovrebbe essere sicuramente la lista di Forza Nuova, una lista che appoggerà la candidatura a sindaco di Davide Perillo. Per il resto non si hanno notizie certe, quindi se le cose restano così come vi ho detto io, ci saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidati a sindaco, con 24 liste di appoggio complessive, 24 per 32 che sono i candidati massimi, ma ci saranno liste che sono meno di 24, presenteranno tutti 32 candidati, avremo 8 candidati a sindaco, a meno che, ripeto, domani entro mezzogiorno non ci siano altri nomi di altri candidati con altre liste, avremo quindi 8 candidati a sindaco con 768 candidati al Consiglio Comunale al massimo. Questi candidati dovranno conquistare 32 posti, a disposizione di questi 768 candidati ci sono solo 32 posti al Consiglio Comunale. La novità di quest'anno, per il voto di quest'anno, è il voto di genere. Gli elettori potranno votare due candidati, uno maschio e uno femmina, obbligatoriamente, uno maschio e uno femmina, cioè tutti e due i generi devono essere rappresentati. Per il Consiglio Comunale si può fare il voto disgiunto, si può votare i due candidati al Consiglio Comunale di una lista, da un maschio e una femmina, o una femmina o un maschio, e il candidato a sindaco di un'altra lista. Questa è la novità. Comunque siamo alla vigilia, più o meno i numeri dovrebbero essere questi che vi abbiamo dato. Gesto inqualificabile a Crutone per la seconda volta, i noti rubano la batteria alla motocarrozzella di un disabile. Quasi sempre sono orgoglioso di appartenere a questa città, di essere un cittadino di Crutone, ma ci sono dei momenti in cui mi vergogno, ho vergogna di dire che sono di Crutone. Questo è uno di quei momenti. Vorrei andare via da questa città, chiudere la porta, sbattere la porta e andare via. Il nostro amico Franco Boito, una persona disabile, gravemente disabile, abita qui, in via Giovanni Paolo II al Civico 58. Lui ha quella carrozzina, quella motocarrozzella, questa che vedete, ha una motocarrozzella con la quale va in giro. L'avrete visto, i crutonesi l'hanno visto. L'hanno visto spesso perché alla situazione sua drammatica di vita ha sempre reagito positivamente e va in giro con la carrozzina. Bene, questa mattina è sceso di casa per andarsene in giro con la sua autocarrazzina tinta di rosso-blu e è andata a mettere in moto la carrozzina e era morto. Non c'era più la batteria. Qualche deficiente, hanno portato via la bandiera del crotone, lo specchietto retrovisore e un bastone. Che vergogna, che vergogna. Questa città si deve vergognare per questa gente. Franco. Mi sono rincazzato. Mi sono rincazzato, si è amareggiato, triste, deluso. Io ho sempre fatto sapere la gente. Basta chiederlo, no? Il fatto che si è messo pure la firma, no? Si è piatto pure la bandiera. È un drogato, è un figlio di... Non è nessuno, però se hai bisogno di qualcosa, tu che hai fatto questo pure precedente, no? Viene da zio Franco. Hanno fatto rovine oltre a portarsi via la batteria. No, 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 no. Lo specchietto e la batteria. La batteria è un bastone. Ma poi si è messo la firma. O i cretini, ma siete proprio cretini. Ma avete bisogno di qualcosa? Tu che l'hai fatto, scemo? Ma che tu puoi entrare a te? O ehi, vieni da zio Franco, vieni da zio Franco, vieni. Qualsiasi cosa tu hai bisogno, non c'è problema con me. Ma non mi toccare la barchetta! Non me la devi toccare. Perché ti taglia le gambe. Perché con le tue gambe sono la carrozzina. Io cammino. Adesso hai chiamato la questura. Sì, sì, ho già fatto denuncia, una seconda volta. Meno male che la polizia e il servizio dei cittadini sono sempre gentili. E la polizia è al servizio dei cittadini? Molto gentile, ma però... Questa gente non merita di essere chiamata. Queste non sono persone, non sono esseri umani. Sono delle bestie. Professor, mi hai visto mai piangere da me? No, 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 non ti ho mai visto sempre. Ti ho visto sempre reagire, infatti, con grande coraggio. Ma si è proprio incazzato. Non ce la fai dicendo. Sono disponibili 7 milioni e mezzo di euro per interventi sulle strade provinciali del Crotonese. Stamane si è tenuta un'apposita seduta del Consiglio Provinciale. No, più mi interessa. Si è riunito il Consiglio Provinciale di Crotone per esaminare i progetti preliminari per gli interventi sulle strade provinciali. Ricorderete che i sindaci del Marchesato, soprattutto, hanno protestato occupando anche, rallentando il traffico sulla 106. Hanno fatto due iniziative di protesta nelle scorse settimane. Poi c'è stato un incontro col Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio, e questi sindaci. In questo incontro Mario Oliverio ha dato la disponibilità di 7 milioni e mezzo di destinare alle strade provinciali. Solo che la provincia di Crotone doveva presentare i progetti. I progetti sono stati redatti. Stamattina si è riunito il Consiglio Provinciale. Nelle prossime ore questi progetti saranno trasferiti alla Regione Calabria. E quindi se saranno condivisi i progetti, ci saranno i finanziamenti e si potranno fare gli interventi sulle strade provinciali che sono in questo momento, quelle della provincia di Crotone, un vero e proprio dramma. Un disastro. Il Pungiglione incontra per caso l'assessore regionale all'Ambiente, Anzonella Rizzo. In giro per i marciapiedi di Crotone abbiamo beccato l'assessore regionale all'Ambiente. Anzonella Rizzo che si acquista la bandiera. Sì, non ce l'avevo questa, nel senso che essendo una antica tifosa ho le bandiere senza la scritta benvenutina e quindi credo che sia necessario averlo a casa. È un bel trionfo per la città di Crotone e per la Calabria intera. Lo metterà sul suo balcone, la metterà questa bandiera? La metto adesso sul balcone perché vedo che sventolano sui balconi tutta la città. Poi lo metto in casa insieme anche alla sciarpa che sto acquistando. Che sta acquistando, bandiere e sciarpa. Bandiere e sciarpa. Viva Crotone. Viva Crotone sempre. E i festeggiamenti per la storica promozione del Crotone in Serie A continuano. Mercoledì prossimo tutta la squadra e la dirigenza verranno accolti a Mesoraca. Ne parliamo con il sindaco Armando Foresta. Il calcio non è solo Crotone. La squadra in Serie A non è solo Crotone. È anche territorio. È Mesoraca. Il sindaco di Mesoraca è pronto ad abbracciare la squadra del Crotone. Sì, lei ha perfettamente ragione. Il calcio rappresenta un po' tutta la provincia, io direi tutta la regione. La promozione in Serie A del nostro Crotone credo che sia una soddisfazione non solo per la città di Crotone ma per l'intero territorio regionale. Un entusiasmo notevole riscontrato soprattutto in questi comuni più decentrati, più periferici. Qual è in Mesoraca? Qual è in Mesoraca? Mercoledì sera per noi sarà un onore abbracciare la società calcio del Crotone con tutta la squadra, con tutto il personale a dentro. Perché verranno a Mesoraca? Verranno a Mesoraca, sì, alle ore 19. Grande festa, grande entusiasmo, grande partecipazione. Tutti i comuni del Marchesato saremo lì ad ospitare, ad attendere i nostri eroi. Perché sono eroi, eroi moderni. Perché sono eroi, perché hanno saputo portare in alto il nome di Crotone, il nome della Calabria, una Calabria sempre più in difficoltà che comunque con il calcio e con il Crotone, con il colore rosso e blu riesce a riscoprire il suo orgoglio che da qualche anno era proprio dimenticato. Viva Crotone! Sempre, sempre viva il Crotone! Gli uomini di Mr. Iuric tornano in campo domani pomediggio alle 15 tra le mura amiche dell'Ezio Scida. Vediamo chi è stato designato ad arbitrare la gara della quarantesima giornata del campionato di Serie B, il diciannovesimo di ritorno ad arbitrare il Crotone in Latina. Ci sarà Canduscio di Cervignano del Fiuli, coadiuvato da Rapparelli e Calò. Vediamo altri appuntamenti, previsti per domani sabato 7 maggio alle 11 presso la Lega Navale di Crotone, presentazione di onore e dignitudine, storie di donne e uomini in terra di Indrangheta, delle ricercatrici sociali Sabina Garofalo e Ludovica Ioppolo. Alle 10.30 presso i campi di gioco dell'Ido Casarossa di Crotone si disputeranno le finali del torneo di calcio a 5 di beneficenza denominato Sport e Solidarietà. Alle 10.00 a Petilia Policastro si svolgerà la terza edizione della giornata del coraggio femminile in memoria di Lega Garofalo. Nell'ambito della stagione teatrale di Cotronei, sabato 7 maggio alle 21.00 sul palco del Teatro Punto di Cotronei, arriva il soprano Katia Ricciorelli ad aprire l'evento, una giovane artista crotonese Danila Abate. Parzialmente nuvoloso, visibilità ottima e vento di 5 nodi, il tempo previsto per domani su Crotone e provincia con 16 gradi, la temperatura massima prevista nella città a capoluogo, 12 la minima ed ora il bollettino nautico del Marrionio, tempo vento da nord, forza 3 con locali rinforzi da nord al settore nord, sereno o poco nuvoloso, visibilità buona, mare mosso in attenazione, tendenza, vento da nord-est, forza 3, sereno o poco nuvoloso. Nell'ambito dei festeggiamenti mariani, ieri presso la Basilica Cattedrale di Crotone, venerazione dell'Effigie della Madonna per il tradizionale bacio. Vi lascio con le immagini, per me è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni. Vi lascio con le immagini, per me è tutto, grazie per essere stati con noi, suolo, grazie per essere stati con noi, a tutti i nostri amici, a tutti i nostri amici, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.